Musica Giovedì 15 giugno, Santa Germana, è il 166esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 199 al termine. Il sole sorge alle 5.21 e tramonta alle 21.01. La luna si leva a mezzanotte 23 e tramonta alle 10.50. All'unanimità viene acclamato Doge Bertucci Valier, essendo ammalato può trasferirsi in Palazzo Ducale solo il 10 luglio successivo. Durante il suo dogado avverranno le famose battaglie dei Dardanelli contro i turchi, nelle quali morirono dai roi i capitani in generale Lorenzo Marcello e Lazzaro Mocenigo. Le previsioni per domani. Anticiclone ancora su buona parte del nord-est per una giornata di piena estate su tutti i settori. Nel pomeriggio vi sarà l'occasione per qualche breve acquazzone o temporale sull'arco alpino, venti deboli moderati da nord-est con mari quasi calmi o poco mossi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS